Di nuovo un quadro di un artista contemporaneo vivente, Agostino Bonalumi, il titolo è bianco, lo potete vedere, la data di esecuzione è il 2005. In questo caso stiamo parlando della classica, proprio tecnica di Bonalumi, è carta estroflessa. Noi abbiamo visto nelle nostre aste anche spesso delle tele estroflesse, le tele vengono estroflesse proprio ponendo del legno, del compensato sulla parte posteriore della tela, in modo che così si possono creare degli avvallamenti. Invece in questo caso ha operato con la carta, infatti si vedono, vedete, tutte queste piccole ondine. Adesso la regia sicuramente ve le sta facendo vedere, sono tante piccole ondine. In più, come potete notare dai disegni preparatori, da quello che è il progetto sottostante, la carta è stata proprio tagliata in più punti e infatti queste ondine seguono ognuna un proprio movimento. Si crea quindi uno spazio e anche una sovrapposizione di spazi. Infatti il nostro sguardo, quando guardiamo un quadro di Bonalumi, ma in particolare anche nel caso di questa carta, non riesce a capire qual è il vero fuoco nel movimento, perché sono più movimenti l'uno vicino all'altro e tutto questo è stato creato appunto facendo questo piccolo gioco proprio nel progetto di questa carta, nel progetto dell'opera. Agostino Bonalumi, del 2005, abbiamo detto bianco e il titolo, 50x70, carta estroflessa ed acrilico, all'autentica dell'artista su fotografia quest'opera, l'opera è archivata presso l'archivio delle opere di Bonalumi, come vi ho già detto più volte, bisogna sempre fare attenzione che l'arte sia autentica, ne garantiamo a tempo indeterminato, in questo caso abbiamo proprio l'autentica dell'artista su fotografia e l'opera è stata archiviata proprio presso il suo archivio personale. L'opera è firmata e datata in basso a destra, eccola qui, firma e data, prezzo di base d'asta 8.000 euro, 8.000 euro il prezzo della base d'asta per questo lotto che verrà esitato il giorno 26 novembre, abbiamo già detto che i dipinti saranno esitati all'ora 16 e poi di nuovo all'ora 21, il giorno 26 novembre. Ora passiamo al successivo.